buongiorno da obiettivo news oggi 25 settembre san cleofa il 25 settembre si celebra la giornata mondiale dei sogni una ricorrenza dedicata ai sognatori che anche un augurio perché i loro obiettivi si realizzano la giornata infatti vuole invitare le persone a credere nelle proprie idee e a portarla avanti fino alla loro realizzazione l'idea di creare questa giornata è stata di un educatrice di fama internazionale che durante la sua attività la columbia university fonda questa celebrazione nel 2012 lo scopo dell'educatrice era ed è quello di far riflettere gli individui sull'importanza di raggiungere i propri traguardi invitando le persone ad agire per realizzare i propri sogni i tre pilastri di questa giornata sono collaborazione creatività e contribuzione una giornata di azione globale che coinvolge tutte le comunità del pianeta quando parliamo di sogni quelli più bizzarri si legano spesso a tradizioni originali curiose in italia i sogni sono da sempre legati alla superstizione sognare elenchi di numeri è considerato presagio di una vincita alla lotteria per citare un esempio altri esempi delle superstizioni occidentali sono i serpenti e pugnali sinonimo di sventura e malasorte al contrario in cina sono entrambi segni di buon auspicio ma anche il giappone vanta alcune tradizioni originali una di queste la credenza popolare secondo cui la difficoltà a prendere sonno la notte sia dovuta al fatto che si svegli nei sogni degli altri il primo sogno dell'anno poi oltre ad avere un nome specifico che letteralmente vuol dire primo sogno ha un'importanza cruciale predirebbe la fortuna di tutto un nuovo anno rimanendo in terra d'oriente è particolarmente macabra ma anche curiosa la credenza popolare della corea del sud dove dormire in una stanza chiusa con il ventilatore acceso si possa si pensa possa causare una morte improvvisa è apparentemente spiegabile